mister possiamo dire che alla provercelli oggi l'oscar dell'essere della cinicità si può usare questo termine insomma si è stati davvero cinici sì anche se penso che a livello di occasioni nette ne abbiamo avute due o tre perché comunque abbiamo avuto anche marchi davanti al portiere che dal campo adesso non voglio discutere sembra rigore anche perché non aveva motivo di buttarsi visto che c'è va solo più che di fronte al portiere poi il primo tempo a livello territoriale penso abbiamo fatto un'ottima partita ha sfruttato poco diciamo la supermerzia territoriale sia stati poco incisivi per quello che si poteva creare penso che non abbiamo rischiato niente di importante tranne che qualche cross ma ci sta perché il crotone sappiamo che una squadra forte sappia anche dei giocatori davanti bravi però penso che noi abbiamo fatto una grande partita anche perché non eravamo diciamo avevamo anche tanti infortunati diverse squalifiche e penso che sia una vittoria tutto sommato meritata sapendo che a volte comunque gli episodi senza nulla torre del crotone fa la differenza possiamo dire che la partita si è sviluppata centrocampo e lì che l'avete vinto sì devo dire che il primo tempo abbiamo fatto molto bene ma abbiamo inciso poco per quello che ha per i presupposti che abbiamo creato per poter incidere negli ultimi venti metri si è stati poco incisivi secondo tempo siamo partiti il primo quarto d'ora dove il crotone ha provato a spingere e da quel punto lì diciamo che poi forse nell'aver messo un attaccante più essendo passati al 4 4 2 quindi con due attaccanti centrali e due esterni d'attacco forse nel rischiare di vincere la partita l'abbiamo vista bene che c'erano più spazi da aggredire abbiamo avuto queste due o tre occasioni importanti una abbiamo fatto un bel gol poi anche sull'1 a 0 l'occasione di Beretta da 2x2 e quindi penso che insomma dal nostro punto di vista abbiamo fatto la partita quasi perfetta perché sappiamo che questo non è un campo facile incontrando una squadra che ha sicuramente meno punti di quelli che merita e poi c'è stata questa espulsione che lei l'ha vista molto bene dalla sua visuale non voglio giudicare ripeto che tanto gli episodi di partita in partita sono sempre diversi mi è sembrato un po' eccesivo è chiaro che ci ha un po' penalizzato nel senso che è sempre meglio giocare in 11 però non ci siamo disuniti siamo rimasti sempre 4-2 centrogampisti e 3 attaccanti provando a cercare di negli spazi che si poteva anche nell'ultimo quarto d'ora di poter far gol e devo dire che nell'ultimo quarto d'ora abbiamo avuto tre occasioni riempie compreso il gol